Ho avuto un primo innamoramento, una prima empatia con la sceneggiatura appena letta e questo ha fatto sì che avessi voglia di aderire completamente subito. Ma un insicurone, uno pieno di fragilità, di insicurezze, però con quella qualità che è tipica magari anche di certi intellettuali del saperle riconoscere. Come dire, ha significato scoprire che si può lavorare anche a degli standard alti, molto alti, in serenità. E anche con una troupe che non, vuol dire, che si concede dei momenti ludici, di gioia, di affetto.